Ciao ragazzi, mi sono tornati con questo nuovo video, sono proprio me e oggi un video un po' diverso, cioè non proprio diverso Oggi facciamo un video su Angry Shark, anzi no, su Clash Royale Oggi faremo un video un po' corto, sarà 5 minuti almeno Facciamo una battaglia, se perdiamo non succede niente perché non me ne frega altamente di perdere Non me ne può fregare di meno Faremo una battaglia in singolo e una battaglia in duo Anzi, in duo ne faremo quanti ne vogliamo Non ci sono niente Ok, 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 ok Dai, 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 va bene, va bene, va bene Non ci sono niente ragazzi, lo so più che c'è la mia chiesa Chi non è la mia chiesa? No, 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 no Dai, ragazzi, dai, va bene, va bene, va bene Chi sta, chi sta, chi sta, chi, chi, chi... Questo è l'eatto Io per taccanta, vai Ok, dimi una acc maskeda Oh, dai. Oh, dai, l'ho, tratti, hai scelto. Grazie a tutti i nostri spettatori Ma Dio santo stupetta, guarda, solo quello che hanno, visto è lento come la madonna. E' un po' di più, un po' di più, un po' di più. tu devi capire! guarda sitio! Grazie a tutti. Non mi attaccavano a due lati, è impossibile difendere. Ragazzi, l'ultima partita vi chiedo qua il video perché onestamente mi sono già rotto il cazzo. Allora, già ci sta la soltria. Sì, e vabbè, noi ne abbiamo schierate due e loro ne hanno schierate quattro. Ma guarda, guarda qui. Ma lui è devastato. Sì, sì. Guarda, devono morire tutti male. Oh, abbiamo fatto molto grande, molto danno. Mastino. Non serve il print, non è molto print. Non, 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 non. Oh. Ok. Ok. E poi la dico qua. Eccola. Adesso sono in grado il principio. La metto lì. Adesso se non mi butto le ore per schierare qui. Ebbè becchia. Questa vuole fare un bellissimo appassio. Perché come ordinario... che fanno 5 6 5 6 6 7 8 8 8 9 10 ok ragazzi chiudo quel video e ciao